Si aprono i giochi per succedere a Daniele Delben come sindaco di Rosate nell'Abiatense e dopo Carlo Tarantola è il turno di Alessio Curzio che guiderà la coalizione di centrodestra. Ingegnere quarantenne, sposato e con due figli, è stato scelto dalla Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia per le elezioni del prossimo ottobre in cui guiderà appunto la lista centrodestra per Rosate e per la quale ha rimandato alla pubblicazione del programma nelle prossime settimane per conoscere i progetti che ha in mente per il suo paese. Queste le dichiarazioni con cui ha annunciato la sua candidatura. Innanzitutto ringrazio di cuore gli amici della lista centrodestra per Rosate che hanno deciso di proporre la mia candidatura. Un onore che cercherò di ripagare fino in fondo, facendo il massimo per soddisfare le loro aspettative e quelle dei nostri sostenitori. La nostra squadra proporrà persone, programmi e idee senza fronzoli e con senso pratico in funzione delle esigenze della comunità. Ascolteremo sempre i cittadini che saranno costantemente al centro del nostro progetto. Rosate e rosatesi insieme possiamo.